La prima volta che Valentino assistette a uno spettacolo di proiezione, ma non era ancora cinema. Quella volta i bambini non fecero storie, nemmeno Alberto. Consideravano la proposta interessante e per tutto il pomeriggio continuarono a tempestare di domande la povera mamma, che su indicazione di papà Giovanni aveva deciso di portare Alberto e Rodolfo a vedere uno spettacolo nuovo del teatro che era lì, di fronte alla loro abitazione. Ma è come il circo equestre? Continuava a domandare Rodolfo, sicuramente il più emozionato. In città era arrivata una banda di zingari, quelli veri, con uno spettacolo itinerante insolito. Non l'esibizione di animali esotici che pure accendevano la fantasia di Rodolfo, ma uno spettacolo con la lanterna magica. Una diavoleria che faceva vedere immagini giganti e luminose sul muro. Direttamente dall'Inghilterra, al fascino delle immagini più belle a Castellaneta, solo giovedì sera nel Teatro Costa. Vi aspettiamo per farvi fare il giro del mondo. Questo è lo slogan gridato per le strade del paese dal banditore di turno. Papà Giovanni, che era attento alle novità, ne aveva parlato a lungo col suo amico Mauro, uno spettacolo che incuriosiva anche gli adulti. D'accordo con Gabriele, decise di fare partecipare i suoi figli più grandi a quella che sembrava un'occasione più unica che rara. Rodolfo era eccitatissimo, ma anche Alberto parlava con entusiasmo di quell'impegno serale. Vedremo i fantasmi uscire dal muro. Sei sicuro di non avere paura? Fu la provocazione di Alberto. Io sono più coraggioso di te. Tu sei il fifone. Fu l'immediata risposta di Rodolfo, che non aveva tutti i torti. Quel carattere bellicoso e testardo gli consentiva di avere atteggiamenti autonomi. Spesso sbagliava e quasi mai accettava le punizioni, ma sicuramente aveva il coraggio delle proprie idee, scottrandosi con la razionalità di Alberto. Papà Giovanni, positivamente sorpreso per quella inopinata convergenza di interessi, la vedeva a modo suo, stabilendo una netta distinzione tra scienza e suggestione, tra realtà e fantasia. Non gli interessava tanto l'aspetto fantastico dello spettacolo, quanto il dato tecnico di funzionamento di quell'apparecchio che veniva sfruttato in senso spettacolare. Vide sistemata nel teatro una scatola di metallo chiusa. Da alcune fessure laterali si intravedeva all'interno una grande fiamma di candela e dal lato frontale sporgeva un cilindro con una lente ottica. Attraverso quella lente passavano i raggi luminosi e andavano a stamparsi su un muro bianco del palco. Papà, il maestro ci ha detto che le immagini escono capovolte. Sì, Alberto, è un principio della fisica. I raggi luminosi concentrati dalla lente invertono la propria posizione e formano un'immagine capovolta. Ma per vedere l'immagine nella giusta direzione è sufficiente inserirla capovolta. All'orario indicato entrarono nel teatro e presero posto in seconda fila, i due bambini seduti tra i genitori. Maria era ancora troppo piccola per quelle emozioni e fu lasciata a casa con Rosa. Alberto poteva osservare da vicino quell'aggeggio che lo incuriosiva molto, una specie di botticella metallica, una protuberanza circolare sul muso e un'altra sulla parte superiore, quasi fosse un comignolo. Sembra una piccola locomotiva, ma manca il vapore, osservò Alberto con un po' di saccenteria. Poi improvvisamente salirono gli zingari sul palco, un uomo e una donna vestiti in maniera strana. Rodolfo fece grande attenzione ai particolari memorizzando le fattezze degli abiti e le decorazioni. Lui con la faccia truce, baffi e barba, capelli lunghi fermati da una specie di turbante. Un ampio camicione a righe gialle e blu su un pantalone nero con righe laterali bianche. Il pantalone sfrangiato poco sotto il ginocchio, scarbetta nera e leggere. «Papà, ma è un pirata o Alibaba?» chiese Rodolfo mentre si soffermava a guardare il grosso orecchino che pendeva dal lato sidistro. Lei sembrava una donna giovane con un'ampia e lunga gonna bordeaux, un corpetto manicato dorato con lacci neri e in testa una bandana di velluto nero. Il volto giovane segnato da un trucco marcato che le inconferiva un aspetto irreale. «Medame, monsieur, bonsoir! Siamo venuti a presentarvi una grande magia!» Mischiando termini francesi ed espressioni italiane, a turno cercarono di spiegare quella grande novità che era la lanterna magica. Una novità che portavano in giro in tutta Europa e che magicamente faceva vedere le immagini più belle. Poi armeggiarono su quell'aggeggio, fecero chiudere le tende pesanti degli ingressi e lasciarono solo le luci delle torce. Improvvisamente, sullo schermo, comparve la prima grande immagine. Era un fiore colorato, indefinibile, una specie di margherita con i lunghi petali multicolori, poi altre rutilanti immagini che con rapida risolvenza venivano proposte e proiettate sul muro. La magia consisteva nel fatto che quel fondo, alla luce dell'apparizione, sembrava una vetrata attraverso la quale i bagliori multicolori restituivano immagini fantastiche che però acquistavano una loro consistenza, immagini imprevedibili, eppure vive. A Gabriel ricordarono le immagini delle vetrate gotiche delle cattedrali francese, mutevoli al mutare della luce, eppure sempre espessive. Persino Giovanni, dall'alto del suo pragmatismo razionale, non poteva fare a meno di apprezzare la potenza illusionistica ottenuta con un semplice gioco di specchi. In quel momento, il suo innato interesse per gli strumenti scientifici si focalizzava sugli apparecchi ottici e sulle leggi fisiche che regolano la trasmissione della luce. Teneva ad occhio il pirata operatore e lo osservava armeggiare intorno alla fessura nella quale infilava piccole strisce di vetro pitturato. Li muoveva con maestria e otteneva abbinamenti e incroci di immagini. Il risultato era enfatizzato dalle parole di commento che a turno l'uomo e la donna accompagnavano le immagini stesse. Con un eloquio incerto e a volte sgrammaticato ma reso affascinante dall'infessione francese e dal ricorso a suoni onomatopeici decisamente efficaci ad iscrivere le stazioni. Voilà! Prepare-vous a faire un voyage dans les fabuleux orient! E ora preparatevi a fare un viaggio nel favoloso Oriente! Disse con voce suodente la giovane donna mentre lui con la mano oscurava l'immagine. Il muro di fronte diventò buio e qualche attimo dopo si illuminò del giallo della sabbia del deserto con le dune e il cielo bianco. Poi si videro le palme di un'oasi e i cammelli si abbeveravano poi le vedute di una reggia orientale la giungla e le sue tigri le spiagge esotiche con i grandi velvieri alla fonda. Disegni ingenui che rendevano però attraverso il colore della luce e il fascino del racconto il senso del viaggio. I bambini erano mutoliti per l'emozione dello spettacolo che gradivano e per quelle immagini rutilanti che accendevano la fantasia. Rodolfo come al solito cominciò a sognare si sentiva parte di quel mondo evocato con i colori ed elaborava sensazioni reali di meraviglia di fronte alla scimitarra minacciosa del gran vizir oppure di paura al cospetto della bocca minacciosa di un enorme tigre pronta a germire la preda con i suoi denti affilati. Forse non avrebbe mai visto uno spettacolo più bello per lui incredibilmente attraente. E ora lo spettacolo più eccitante urlò il pirata rivolgendosi al pubblico assumendo volutamente un ghigno poco rassicurante. I bambini possono chiudere gli occhi se non vogliono vedere. Alberto prese istintivamente la mano del padre e si girò a guardare Rodolfo. Hai paura? chiese. Te l'ho già detto il fifone sei tu. Poi si voltò a cercare lo sguardo rassicurante della mamma che mentre gli faceva una carezza di chiese lo spettacolo ti sta piacendo vero? Il gran finare era una rutilante sequenza di sagome nere in pose differenti e alternate velocemente. Prima un angioletto che sembrò sbattere le ali e allontanarsi velocemente poi un distinto signore sul velocipide che pedalava sulla strada poi un cagnolino saltellante un toro infuriato una ballerina con le sue pirouette e infine un diavolo con le corna entrando dal lato dello schermo si bloccò al centro con la bocca aperta e gli occhi minacciosi accompagnato dai rumori meccanici che faceva la donna e dall'urlo finale del pirata. La candela si spense l'immagine svanì e cominciò un lungo applauso. Grazie cittadini di Castellaneta arrivederci e i due sparirono dietro i grandi tendaggi.